Oggi andiamo a parlare del libro di Steve Wey, tradotto in italiano finalmente. Il libro si intitola Steve Wey by Ideology, teoria musicale di base per i chitarristi. Spesso per i chitarristi e per i bassisti la teoria è un tasto dolente. Steve Wey cerca di condensare in un unico libro tutti i vari elementi che vanno dagli intervalli agli accordi, ai modi maggiori e minori, alla notazione su tavolatura, ai ritmi, poliritmi e quant'altro. Una cosa davvero molto interessante. Il libro scorre via molto bene, è abbastanza esaustivo. L'unica cosa che potrebbe appena mancare è la traduzione delle note che dà il pentagramma dove queste dovrebbero essere suonate sul nostro strumento. È un libro indirizzato soprattutto ai principianti, ma se andiamo a sfogliarlo con attenzione vediamo che ci sono moltissimi concetti, anche abbastanza avanzati. Diciamo che è un libro che va bene sia al principiante sia al musicista di medio livello. E come in tutti i libri troviamo sempre qualche chicca, qualche cosa molto interessante, per esempio la notazione dei quarti di tono, che non avevo mai trovato in nessun libro. Il libro viene diviso secondo la nozione teorica e secondo l'esperienza del chitarrista proprio sul campo. Un'altra cosa molto interessante che troviamo sono dei ceni sugli strumenti traspositori. Troviamo anche delle nozioni sui modi minori. Questa diciamo che è la parte più approfondita. Di solito molti libri trattano solamente la teoria dei modi maggiori, tralasciando quasi completamente la teoria dei modi minori. Come dicevo, tutto quanto tradotto in italiano è edito dalla A. Leonard. Sicuramente un ottimo punto di partenza per chi vuole approfondire la conoscenza teorica. Alla prossima.